Pier Luigi Puccini è nato a Lucca nel 1948. Dopo la maturità artistica e i corsi di perfezionamento in scenografia e scenotecnica, inizia a dipingere nella sua bottega Laboratorio d'Arte Il Grifone, dove si sperimentavano varie forme di arte applicata e dove non mancavano riunioni culturali, letture poetiche, discussioni. Un luogo che diviene presto importante punto di riferimento per spettacoli musicali, happening, performance, collettive di pitture e iniziative culturali. Inizia in questi anni il rapporto con il teatro che prosegue con una brillante carriera nel campo della direzione artistica, scenografia, regia.